Lavori bloccati da un sequestro disposto mesi fa dal giudice per le indagini preliminari è confermato dal Tribunale del Reesame. Gli indagati sono Alessandra Autore, dirigente del settore servizi alle imprese del Comune di Palermo, il progettista Adriano Canepa, Maria Mandalà, anche lei dirigente del SUAP, Andrea Schirò, responsabile del procedimento, e l'imprenditore Santo Lanzafame. Tutti gli indagati hanno respinto le accuse contestate a vario titolo di abuso d'ufficio, violazioni edilizie. Ruota attorno a queste due ipotesi, infatti, l'indagine sulla costruzione di 11 sale con 3.000 posti a sedere, bar e ristoranti. Una mega struttura progettata dalla Moviplex, a cui è poi subentrata la Maxcine. Il progetto di Tommaso Natale non avrebbe avuto i requisiti per essere approvato. Le indagini sono partite da un esposto del 2013. Interventi di ristrutturazione dovevano rispettare i volumi della vecchia struttura. Secondo i PM, non se ne sarebbe potuta realizzare una nuova, vista la vicinanza del Cinema Aurora. Quest'ultimo dista 660 metri dal nuovo multisala, al di sotto dei 6 chilometri, che a regolamento alla mano devono esserci fra una struttura con più di 1.300 posti a sedere e una già esistente con capienza inferiore.